Rolandi, si parla di stipendi, siamo vicini al Natale e non ci sarebbero i soldi, così si dice, per pagare gli stipendi dei dipendenti della società tua. Corrisponde al vero questa indiscrezione? Sì, assolutamente è vero, anzi la situazione è ancora più drammatica perché oltre ai 1600 dipendenti delle aziende uniche ci sono i tanti dipendenti dell'indotto, ci sono i dipendenti delle società partecipate quali ad esempio Cerella che già da 10 giorni non stanno percependo lo stipendio, è assolutamente vero e ci fa davvero tanta rabbia una notizia del genere se pensiamo che appena 10 giorni fa abbiamo sottoscritto con la regione, con l'azienda unica di trasporto un accordo regionale importante che ha previsto peraltro anche sacrifici in termini di maggiore produttività del personale ma anche sacrifici economici soprattutto per quelli che hanno redditi più alti e quindi a distanza di 10 giorni venire a sapere che ci sono problemi di liquidità per poter pagare gli stipendi ci fa davvero rabbia come dicevo. Problemi di liquidità che potrebbero nascondere altri problemi o è solo una questione proprio contabile del momento? Se è un problema come sostiene qualche consigliere regionale, un problema imputabile al governo nazionale che non avrebbe in qualche modo trasferito le risorse alle regioni quindi non soltanto all'Abruzzo, dicevo questo è un problema che ci interessa relativamente, a questo punto il governatore D'Alfonso ha soltanto una cosa da fare attivarsi immediatamente verso il governo nazionale e pretendere che queste risorse arrivino immediatamente a destinazione assicurando gli stipendi a tutti i dipendenti della società unica di trasporto.